Ben ritrovati con 45 giri, l'appuntamento odierno è un appuntamento che parlerà soprattutto di calcio, di calcio però a 360 gradi, soprattutto di settore giovanile, soprattutto anche di un calcio che abbiamo un po' lasciato e messo alle spalle per il quale molti dei meno giovani come me rimpiangono tante cose e ne parliamo con una persona che almeno su Teramo ma non soltanto, in Abruzzo direi, rappresenta un po' la storia del calcio, voglio ringraziare Antonio Luzzi che ha accettato il nostro invito, quindi questa chiacchierata nella quale potremmo affrontare un po' tutti i temi che riguardano il calcio di casa nostra degli ultimi 30 anni almeno, però non è questo oggetto della nostra chiacchierata, l'oggetto della nostra chiacchierata intanto parte da un assunto e da questa nuova entità che nasce a Teramo, che è la scuola calcio dedicata peraltro all'indimenticato e indimenticabile Gaetano Bonolis, è già questo insomma vi pone in una situazione di assoluta attenzione da parte degli organi di informazione. Perché è nata quest'idea? Perché vi siete affiliati alla Roma e di fatto avete creato i presupposti perché la Roma abbia a Teramo e forse non soltanto a Teramo una propria succursale. Perché quest'idea? Poi parleremo anche di altro. Ma innanzitutto buongiorno, ma niente, abbiamo dato il nome Gaetano Bonolis perché Gaetano Bonolis per 40 anni è stato il medico della Teramo calcio e praticamente ha fatto un grandissimo lavoro a livello sanitario quindi era il minimo che potevamo fare e poi una promessa che il massimo d'aprile aveva un giorno detto così scherzando al dottore domani siamo tutti mortali insomma non è che gli auguravo la morte. Però fra cento anni. Fra cento anni e questo regalo insomma ecco abbiamo mantenuto la promessa. Fra i parenti io sono cugino di Gaetano Bonolis secco del dottore. Niente, io ero deluso un po' dall'attività giovanile del teramo calcio, sono uscito fuori perché il progetto che io speravo di poter fare non l'ho potuto realizzare quindi essendo responsabile del settore giovanile non mi hanno dato quella fiducia che mi aspettavo. Cioè in pratica dormivamo insieme ma facevamo diversi sogni quindi allora ho pensato di insieme ad aprile e insieme ad altri amici di creare questa scuola calcio. Il cofondatore di questa scuola calcio sono c'è il dottor Ciutti dell'allianza assicurazione, poi c'è Massimo d'aprile io e Luca di Domenico che anche lui uscende dal termocalcio. Restiamo per un attimo sul fatto che tu sei deluso e quindi hai lasciato, Luca è deluso quindi ha lasciato Massimo d'aprile evidentemente doveva lasciare prima per altre cose. Cioè voglio dire tutto questo non si sposa con la città però oppure mi sto sbagliando? Ma noi non siamo in polemica col terramocalcio, noi è una cosa a parte, una scuola nuova che è più che altro una piccola accademia ecco che vogliamo insegnare molto calcio ai giovani non allenarli ma insegnarli quindi è tutta un'altra cosa e quindi non siamo in contrasto con la città del Teramo, anzi collaboriamo se è possibile se un domani usciranno dei giocatori, dei ragazzi bravi a potergli ridare, non è che noi siamo... Beh insomma ci vorrà il permesso della Roma però. Beh sì, la priorità... C'è una relazione della Roma, su questa non ci sono dubbi no? La priorità della scelta ce l'ha la Roma perché ci sponsorizza a livello qua, ecco come primo sponsor. Quindi noi siamo andati a Roma perché siamo amici di Bruno Conti e di Albergati e del papà di Diego De Rossi e quindi abbiamo fatto una riunione, dei confronti, siamo confrontati e loro ci hanno dato questo incarico in Abruzzo e più in particolar modo nel Teramo, nel Teramano. Naturalmente noi siamo felicissimi, abbiamo fatto già dei programmi, abbiamo scelto dei collaboratori molto bravi e professionisti tipo diciamo Grilli, il portiere. Beh, questa è un'istituzione per Teramo. Sì, che poi era il portiere della Curva. Il portiere della Curva, insomma. Il portiere della Curva. Poi abbiamo preso Cognata, ex calciatore del Teramo, sposato a Teramo. Sì. E poi c'è Luca Di Domenico che allenava i giovanissimi nazionali del Teramo. E poi ci sono io, poi c'è Giannetti Francesco che è stato nel Teramo. Ex calciatore del Teramo, ex allenatore delle giovani del Teramo. E poi c'è Tritella, la parte Belfiore e Tritella che fanno piccoli amici che vengono dalle esperienze da Nepezzano e dal Teramo. Non voglio, ripeto, fare polemiche, non ti voglio trascinare in polemiche, però c'è tanta di quella teramanità in questa nuova struttura, in questa nuova entità che mi rimane davvero difficile capire come non abbia fatto parte del Teramo Calcio. Cioè, questo sinceramente me lo chiedo, oggi posso dirlo anche, me lo chiedo da tifoso del Teramo che non vive più le vicende del Teramo Calcio. Beh, sì, effettivamente siamo tutti teramani, Tolto Grilli che è marchizzato. Il Grilli è più teramano di molti altri teramani. E' diciamato attivo. Eh, niente, non so, il Teramo Calcio evidentemente ha altre scelte, ha altri progetti. Noi questo progetto nostro, appunto dice, parte da anno zero e fino all'età di 13 anni. Naturalmente non vogliamo adesso parlare della scelta del Teramo perché a me proprio non mi interessa più, nel senso penso solo tanto a questo progetto come tutti quanti noi e neanche denigriamo il lavoro degli altri, quindi rispettiamo il lavoro degli altri e quindi... Ognuno per la propria strada. Ognuno per la propria strada. Naturalmente noi, io sono dal 72 che sto in mezzo al calcio, quindi ho maturato tutte le mie esperienze e praticamente sono ritornato a fare i piccino dove sono partito. Ho avuto esperienze sia in campo dilettantistico, diciamo, giovanile, sia professionistico giovanile, sia di prime squadre, quindi dopo tanti anni di attività mi sento maturo per poter fare anche i più piccoli. Senti, io infatti volevo chiederti, questa non è solo una voglia, non è solo una passione per Antonio Luzzi, credo che sia proprio una malattia. No, 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 l'altro giorno per la presentazione mi sono pure emozionato perché allenare i bambini è molto difficile perché là devi creare l'uomo, quindi dietro al calcio autore si deve essere l'uomo, quindi inserirlo nella vita, farlo crescere bene, dargli l'educazione giusta, ti senti responsabilizzato. Sì, perché poi bisogna anche guardare bene lo sviluppo dei bambini perché dargli lo zaino giusto, il peso e il carico giusto per poter crescere. Lì non puoi sbagliare perché sia a livello fisico, a livello psicologico, abbiamo anche un psicologo in società, abbiamo anche un intruzionalista che è molto bravo, è dell'Università di Teramo e quindi dobbiamo seguire tappa ogni tappa queste bambine e la loro crescita e quindi dare i carichi giusti in progressivo e insomma non è un'impresa facile. Naturalmente noi siamo abbastanza ferrati a poter insegnare perché sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non andiamo in competizione con gli altri. Come vi interfaccerete con il territorio? Non voglio parlare solo di Teramo Capoluogo, parlo del territorio perché conosco per esempio questa realtà, adesso comincio a conoscerla, parlo della Val Vibrata e ti assicuro che si sta lavorando in più club anche molto bene nel settore giovenile in questa zona. Voi come vi interfaccerete con gli altri club? Ma noi lavoriamo innanzitutto nel Teramano, nella zona limitrofa di Teramo, nelle zone più vicine, ma non andiamo a rubare i ragazzi degli altri, sia chiaro. Noi apriamo il tesseramento e da settembre, da agosto, naturalmente i ragazzi che vogliono venire, noi li accettiamo tutti, di qualsiasi natura, di qualsiasi nazionalità, non è che facciamo discriminazione. Esatto. E naturalmente, anche se c'è qualche tifoso della Roma, c'è qualche figlio, quindi accettiamo tutti. E poi naturalmente vediamo, loro sono consapevoli del lavoro che dobbiamo fare, noi siamo consapevoli, i genitori vedranno le differenze di lavoro con le altre delle altre parti. Allora, questo è l'anno zero, nel senso che in questa stagione, a 2014-2015, si getteranno le basi per poter iniziare a lavorare il prossimo anno. Sì, noi siamo pronti, adesso abbiamo fatto le riunioni e ci siamo confrontati, anche noi, quindi siamo un gruppo molto affiatato e quindi le premesse vi sono tutte per partire bene. Poi è chiaro che il campo parla, ci hanno affidato il campo della Cona, è un campo sintetico e più delle palestre che per Teramo, che adesso non tutte mi ricordo. Soddisfatto della location? Ma sì, perché no, è un campo nuovo e quindi abbiamo la sede nella casa di Bonolis, che ci ha offerto gentilmente la signora e quindi in pieno centro, naturalmente niente. Non vedi l'ora di cominciare, sei quasi un esordiente. Sì, mi sento un esordiente. Non vedi l'ora di iniziare, dico. Beh, io di ragazzo, tu lo sai, troppo ne ho svezzati, insomma, anche in categoria di serie A, quindi, ma non è che mi voglio fare gli elogi. Quindi ho fatto anche tanti sbagli, a volte, insomma, cioè quando si lavora con i giovani non sempre ci si può azzeccare. Però, ecco, molti giocatori adesso hanno calcato anche serie A e serie B, ancora mi ringraziano quando mi incontro, vuol dire che ho seminato bene. Senti, vogliamo ricordare qualche nome, visto che siamo in tema da mancorda. La tua più grande soddisfazione calcistica è stato Pierleoni, per esempio, troviere. Pierleoni, Mosconi, che è andato a Cesena. Poi ha avuto Lupo, ha avuto, come si chiama, Monaco al Perugio in serie A, ha giocato. Colonello. Donatelli, Rachini a Salerno, del Grosso a Salerno, poi Gian Pietro a Pescara, Desidore a Salerno, ma alcuni sono tutti quanti... No, a me rimane molto impresso Colonello, perché un giorno stavo... Teramo a Falcone pure, Falcone che andò a Emboli. Falcone. Mi ricordo di Colonello. Sanzone. L'attuale Sanzone. Quello che il Teramo riuscì a regalare al Montorio, per capirci. Sì, bravo, perché il nostro Presidente Malavolta, purtroppo, aveva dei collaboratori che non erano molto propensi a fargli il cartellino, a mandarlo in precontratto, e naturalmente lui, deluso, andò a Montorio, perché io a Cipolletti, che è la natura di Montorio, mi chiese Manfrè, mio ragazzo della Beretti, e gli consigliai pure Sanzone. Poi Manfrè era dello Zen di Palermo, e era un ragazzo un po' discolo, un po' particolare, però era un bel giocatore. Però lui andò a Montorio, e mi ricordo questo particolare, che è deluso dal Teramo, andò su con la busta di plastica, non voleva portare nemmeno il sacco del Teramo Calcio. Naturalmente Cipolletti rimase molto sbalordito, mi diceva, questo è un giocatore forte, e lo prese subito. Poi andò a rappresentativa, rappresentativa, la vita di Cappellacci, poi Lanciano, Cappellacci lo portò a Valle del Giovengo, e oggi è in Serie A. Poi Margarita, pure avuta a Teramo, che ha giocato a Giulianova, pure ha salvato Giulianova un anno a 14 gol. Daniel. Cioè, insomma, io a Frencavilla, è quello dove ne ho proprio valorizzati tanti, e poi avevo un grandissimo presidente che era Luciano. Noi parliamo di Luciano, perché io voglio ricordare, insomma, chi non ti conosce, non sa che tu sei anche brillante, molto brillante, anche in panchina sei molto brillante. Io non dimentico mai, in una gara, forse del campionato Berretti, che si giocava a Colle a Terrato, tu allenavi Francavilla, peraltro, e urlasti... La primavera, sì. Urlasti a Colonnello, che poi ha fatto il calciatore a ottimi livelli in Serie A, urlasti a Colonnello, la prossima volta che fai il movimento sbagliato, io ti degrado. Cioè, tu dalla panchina volevi degradare Colonnello. Insomma, Antonio Nuzia anche questo. Colonnello lo prendevo dal tollo, e lo pagammo pochi soldi. Mi ricordo che l'operazione la portò a termine Giorgio Repetto, che stava con noi, Francavilla, e Gildo Valle. Quando venne lui era un'ala sinistra, però io, siccome avevo una carenza dietro come difensore, fecero proposto di metterlo a terzino sinistro. Sul momento... Non distruggere il microfono, perché altrimenti facciamo rumore. Non era molto convintolo. Invece dopo, non più di un mese fa, mostro di allenare in Grecia, allena in Grecia, a Rete 8, disse che l'unico allenatore che aveva capito il suo ruolo ero io. C'è avuto degli orossi. Perché sei tu che lo arretrasti a terzino di fascia. Hai detto un giorno, se l'attenzione ti metto pure in borsa. Man mano scende. Hai parlato di Francavilla. Sì, Francavilla secondo me è stato il più pericolo. e del grande direttore generale Teramano. Senza dubbio. Rodomonte. Sì, Rodomonte. È stata la parentesi più bella della tua carriera quella? No, anche quella con Bergamante. A Teramo. A Teramo. Presidente Pedicone e c'era una bella società perché era molto... andavano molto d'accordo. Ecco, mezzo centro-sinistra era. E mi ricordo che Francesco Bergamante... Noi in tre anni facemmo tre finali nazionali. Primo anno con Di Giovanni, per allenatore. E per Demo con Arrivini, mi sembra. E secondo anno con Barbetta, che perse contro il Trapani, non mi scordo mai. Me la ricordo anch'io quella finale. Fece un grande campionato quell'anno, Barbetta, e meritava il titolo. Il titolo. Poi, insomma, ce lo rubarono giù a tre perché una punizione la fecero batti dieci volte finché non ci faceva il gol. Stavamo a 40 gradi. E l'anno dopo l'ho vinto il titolo italiano a te contro il Trento. Dove c'erano più Teramani. Sì, 87 gol e 11 subiti. Mi ricordo... Il presidente del Trento scese nello spogliatoio e quell'anno ci fu la retrocessione diciamo della prima squadra. Della prima squadra, sì. E fu un passato inosservato questo titolo. Invece è mostrato a passare 30 anni. Nessuno la vinto più. E mi ricordo che il presidente del Trento scese nello spogliatoio con quattro bottiglie di champagne a brindare con noi perché aveva visto una squadra che rimase in casa. La prima squadra Luzzi c'erano che io ricordo. C'era Piergallini, Piergallini, Pierleoni, Bosconi, c'era Bolis che è di queste parti qua, c'era Cipolletti, c'era Vittorio Pompa. Sì, Budoni che poi andò in Azzeria. E poi andò in Azzeria. Insomma, di fuori c'è stata poi che ci stava. Salvatore che ha giocato in prima squadra, il terzino. Giovanni Salvatore. Giovanni Salvatore. Il figlio gioca ancora. Salvatore che stava a Torricella pure molto forte. C'era Pierleoni, ho detto, Piergallini pure. Il presidente era Bergamante o De Berardis? Era De Berardis il presidente. Sì, Erbaci che poi andò a Lazio. Erbaci terzino. Sì. Ecco, però insomma, raccogliemmo i frutti di un lavoro di cinque anni. Invece a Francavilla no, Francavilla c'era una società più ricca forse anche più organizzata. Sì, a termo dovemmo ricreare un settore giovanile. Invece a Francavilla già era consolidato le basi erano insomma a livello di esordienti giovanissime e quindi bastava solo lanciarli. E naturalmente prendemmo anche dei ragazzi poi anche di fuori, di fuori, della zona di Pescara insomma, no? Che poi hanno fatto tutti i calciatori e tacchi poi c'era pure tacchi. Manuel Tacchi. Sì, uno dei fratelli più piccoli insomma, i fratelli giocavano in serie A, in serie B. Questo è proprio un grande giocatore veramente. Il padre era il nazionale argentino e giocava. E niente, con Luciani perché Luciani aveva un'organizzazione perfetta. Avevamo veramente uno staff tecnico di primo ordine. Ma poi lui il presidente ci cedeva più con i giovani che con la prima scuola. È vero, questo lo hai detto sempre tu. Però poi un colonnello pagato 10 milioni l'ha rivenduto a 800, capito? Milioni. poi Luciani era anche il presidente che per una differenza di 50 milioni su Ioannoni fra Reggina lo ricordo come c'ero io a Milano l'ho vissuta di fatto quella trattativa fra 600 milioni offerti dalla Reggina e i 650 pretesi da Luciani riuscì a non dare Ioannoni alla Reggina. E te lo sto dicendo. Ma anche dei ULIS prendiamo le persone che poi andò in serie B. Andò in serie B e mi ricordo che una sera andammo a casa del presidente di Egidio di Nepezzano stavamo a cena a fare il contratto quando senti il bilancio Parliamo dell'ala? Sì Era un'ala molto forte però poi ebbe un incidente era ad Ancona giocò in serie B ed era l'idolo della curva poi si fece male un incidente Che dicevi di questa cena a caso del presidente? Che il presidente di Egidio disse Presidente a Cinamano quando disse il bilancio che era pochi milioni si fece una spruzza di vino c'era il muro che era tutti quanti perché lui è abituato i miliardi Parlò di soldi importanti Eh sì e prendemmo questo ragazzo ma ci sono stati anche altri ragazzi a Tiramis c'era Iacone pure che era forte però poi si è perso a Francavilla e mi ricordo che un giorno andammo a giocare a Napoli a Soccavo contro il Napoli e sto dei Julus e guardava Maradona che col barattolo di Coca Cola vuoto palleggiava seduto allora mi sono messo pure io se ci fai quindi c'è stato anche questo grande momento nel quale forse è stato visto il giocatore più forte due giocatori che tecnicamente erano veramente dei prodigi uno era Falcone che mi saliva con Limone a scala di Via Delfico alla sede al terzo piano parliamo di Massimo e poi Pompa Vittorio che era un altro uno che ha battuto Baresi a Coverciano alla tecnica individuale quindi infatti era un libero per modo di dire giocò a 16 anni giocò in Serie C quando la C era pesante lo ricordo ecco cioè Teramo i giocatori non è che io sono contro i Terramani io sono sempre per il prodotto indigena però il problema è se sono bravi perché non è perché uno è andato a Teramo e deve giocare per forza cioè ogni tanto bisogna anche pescare fuori a proposito di Teramo e dei Teramani bravi o meno bravi ma avete integrato fuori qualcosa di molto positivo che non è stato nel Teramo Teramo di oggi che non è stato compreso forse da uno staff tecnico oppure avete lavorato senza produrre granché a me mi chiamo Campitelli e mi diede l'incarco di praticamente di andare al settore giovanile al settore giovanile io entrai con molto entusiasmo perché pensavo di dopo non la delusione di Malavolta ma la volta si sapeva che pensava a vincere subito quindi non voleva anche perché quando andavamo in Argentina noi a trovare il giocatore per la prima squadra tu Mauro Meluso e Romero Malavolta questa era la triade io dovevo andare ad Ancona a fare la primavera quando Simoni allenava l'Ancona in Zerià e mi chiamò di Nicola che poi amico di Romero Malavolta mi chiamò di Nicola per la primavera e io già avevo fatto tutto poi incontravo il presidente di Malavolta mi ricordo a San Nicolò proprio del benzinaio e mi disse fermi dove vai e ho saputo che io faccio a terra una grande cosa e tu mi lasci vabbè allora a Di Nicola chi lo dice è amico mio poi ci penso io dopo dieci giorni partimmo in Argentina e mi disse che voleva fare grandi cose vabbè quando è tornato a terra la delusione più coccente fu che non avevamo le strutture e lui non ci credette più perché il sindaco prometteva e non faceva i campi non ci stavano i terreni non gli davano allora a un certo punto lui deluso disse sai che qua resti con me ma io punto sulla prima squadra però sai i giovanili non venivano rinforzate si viveva la giornata allora pensato con Capitelli cambieranno le cose è partito da zero poi però non governava Capitelli governava il suo cugino Cimini il settore giovanile e sinceramente lui aveva altre idee altri progetti evidentemente non collimavano con i miei e quindi io ho sempre preferito questo è un modo elegante per sviare che vuol dire non collimavano cioè su un progetto del settore giovanile il progetto è uno o ci si crede e ci si investe per quanto possibile oppure ci si crede ma con la testa magari del presidente o del vicepresidente che non è uguale alla tua forse è questo che volevi dirmi no è che io avevo in mente di fare un tipo di lavoro diverso da quello che forse pensava lui lui aveva fatto le scelte dei tecnici a me non mi andava bene ah ecco già questo è un già questo io sono il responsabile lo staff tecnico lo scelgo io praticamente se no gli allenatori gli istruttori che lui aveva preso poi comunicano più con lui che con me perché il punto di riferimento diventa lui e io vivo di luce riflessa sono assolutamente d'accordo con te allora giunto a questo punto già sai le prime avvisaglie di idee diverse anche perché a me piacciono gli allenatori che insegnano cioè quelli che perché l'allenatore vero è quello che raccoglie il lavoro degli altri infatti a me a Tom Rosati una volta a Catania mi dice uno schiaffo io trovo la testa all'aeroporto e mi disse tu non sei un allenatore perché io stavo la prima volta in Francavilla a giocare giù quando lo diventerai sarai allenatore ma sei allevatore mi disse capito detto in termini allora però rendeva l'idea sì allora nel settore giovanile non si deve pensare alla vittoria che sia una cosa necessaria al mille per mille la vittoria viene dopo quando tu lavori sui singoli nei migliori allora poi è chiaro che migliorando i singoli migliora pure poi i risultati vengono per forza insomma tu il gruppo degli allevatori volevi sceglierlo tu sì io non potevo accettare allenatori che praticamente non insegnavano in pratica allenavano la squadra come se si allenavano la squadra di quarta serie di regionale oppure promozione eccellenza per vincere a me questo non mi andava bene insomma a un certo punto sono andati i primi screzzi no e però ecco a livello individuale sul singolo secondo me si lavorava di meno naturalmente guarda caso questi allenatori non sono stati confermati quindi io ci ho messo la testa la faccia come si dice però vedi io non ho la schiena ingurvata ma neanche l'anima che ce l'ho ingurvata quindi io sono fatto così le cose le dico petto a petto e quindi questo fatto qua evidentemente ha da fastidio non piace non piace però io neanche mi metto un sottoposto un sottomesso quindi ho la mia personalità e la mia dignità nonostante che cammini la mia età la mia esperienza la mia competenza 40 anni di attività non la posso buttare nel fosso perché no perché insomma i risultati li ho avuti quindi casomai si devono fare sempre di coscienza quelli che la pensano diversamente ci sta tutto questo sfogo comunque si no volevo anche ricordare le tue parentesi calcistiche professionistiche perché ce ne sono state talune anche importanti e grandi occasioni almeno una la ricordo io con la casertana dell'epoca di Cuccaro bravo del presidente Cuccaro quella fu un'occasione storica che perdessi non so come cioè tu venivi dal campionato con la guida del Teramo ti chiama la casertana che voleva vincere il campionato là c'era il manager Grillo e che successe adesso me lo puoi dire a distanza no velocemente io ci avevo avuto dico la verità 6-7 richieste una l'ho persa perché il mio preparatore atletico non lo accettavano a Roma Leo Valentini eh all'Ordigione di Roma e avevamo un colloquio con Sagramola e mi disse perché a tardi la Bodania aveva fatto il mio nome a Roma no e facevamo un amichevole a Teramo e lui poi mi chiamò a telefono vogliono il numero tramite il massaggiatore e mi chiamò il presidente e non ci mettiamo d'accordo poi ci chiamò la Cireale andammo giù io e Valentini in aereo e tramite un uomo della società Ragona si chiamava che ci venne a prendere e facemmo il colloquio e trovavamo il presidente erano delle terme no? il presidente mi ricordo l'avvocato Aleppo si chiamava sì un piccolino un metro e sessanta neanche e portava 50 anelle fra le mani e c'aveva tutti i uomini del corpo no? la limousine allora lei mi disse qua se le cose fanno male ci mette dentro un blindo mezzo al cemento allora sai non ci andammo un altro il Benevento se con la macchina nera tutto un posto particolare meglio di no meglio di no poi ci chiamò ci chiamò la Salernitana ecco dopo la Putuelana Putuelana la Putuelana che era il Pozzuoli Mauriello il presidente sì e mi parlò un'ora male di Ranieri quello che allena adesso in Francia perché l'aveva cacciato mi parlò un'ora che io si aggrilla il manager insomma io sono venuto a fare il colloquio e allora questo non è un tanto normale e non ci andai la mattina alle 7 mi telefonavo il Benevento alle 6 della mattina Bove era un manager e vieni nella città delle streghe vieni nella città delle streghe Salvatore poi aveva avuto un giocatore Giovanni Salvatore mi diceva sempre io ci ho preso la moglie ci aveva preso la moglie mi disse ma la società io conosco il presidente da prima persona però poi da solo non me la sentiva vabbè Casal Monferrato Valentini l'ex giocatore di basket e lì non c'erano a Casal Monferrato però mi sono salvato perché se andavo su potevo ammalarmi di tumore perché su a Casal Monferrato stanno morire tutti se vabbè lo smog era quello che era però voglio dire non c'era il presidente con la limousine e la guardia del corpo a Casal però mi sembrava di andare in Svizzera mi sembrava di andare non ero condannato a un nomadismo coatto diciamo però non mi stai raccontando di Cuccaro perché a me vi vedeste a pranzo cioè so tutto dico la storia andammo a ci fece entrare nella cucina sotto a me Valentini ci fece prendere l'ascensore e andare al quinto piano perché non ci doveva vedere Materazzi che allenava il papà di Materazzi perché lo doveva suonerare allora già quello a me mi diceva cioè tu non dovevi farti vedere dall'allenatore dall'allenatore Materazzi che poi lo conoscevo io Materazzi che poi l'avevo battuto a terra ti ricordi? me lo ricordo allora a un certo punto salimmo sopra e ci trovammo soli per ore e ore poi venne Stobbove che era il direttore generale e ci disse voi dovete rimanere anche domani domenica perché dovete firmare dobbiamo mettere a posto tutto allora la domenica telefonò la moglie di Leo dicendo che la figlia aveva febbre 40 una cosa che c'era non vi ricordo allora Leo diceva andò io rimani tu e me ne vado a casa io da solo non ci volevo stare allora dice ma facciamo una cosa e ci disse a Bob noi ora partiamo ritorniamo lunedì e a me dice era meglio che rimanete perché c'è una riunione stasera che c'è un generale Tronco non mi ricordo si chiamava Tronco che faceva parte della società e che sponsorizzava un altro allenatore Montefusco che poi mi è un amico allora però mi disse intanto ho trovato il ritiro e noi io già sarei a Brunico mi ritirano perché loro mi avevano detto che andavano qua su mi disse l'agenzia è già tutta a posto e ritiro a Brunico vabbè allora ripartiamo ritorniamo lunedì mi dice ma no ministro stati stati che è importante io non voglio sentire neanche Leo anche perché Leo da solo non voleva tornare allora perdesti questa occasione incontrai Bruno Pace e mi disse Bruno hai firmato? no ancora no allora non firmi più mi disse perché se rimanevi giù firmavi firmavi invece siccome Tronco spingeva per sto Montefusco lui stava in minoranza da Tronco capito? Montefusco si rese disponibile quella domenica e perdemmo una grande occasione perché quella era una grande squadra che fece grandi cose mi volevano molti i tifosi perché i tifosi quando andai giù mi fecero una festa appena arrivammo io non me l'aspettavo mi sembrava come adesso vedi sti allenatore di rimpianti per queste occasioni ma più che altro forse per la Lodigiani perché io dovevo andare a Lodigiani perché faceva più un lavoro giovanile avevano un gran settore giovanile sì e quindi forse lì ho sbagliato il resto non lo so tu immagini che quando io allenavo dovevo andare a Caserta ma anche a Licata mi ha chiamato come si chiama Del Neri stava a Partinico allenare in quarta serie perché non c'era né l'acqua né la luce giù immagina ecco perché lui aveva la mentalità dell'ex calciatore che va in giro e la valigia e lo spago fin da piccolo abituato io invece sembrava che ogni volta dovevo andare a qualche parte mi sembrava di lasciare la famiglia ma se tornassi indietro domanda banale ma se tornassi indietro rifaresti tutto quello che hai fatto oppure no? c'ho qualche appendimento perché prima non c'erano i procuratori allora devi trattare tu col Presidente no? mi ricordo ad esempio ad Alpatriatica c'è un albergo si chiama il aspetta come si chiama l'albergo d'orge d'orge e c'era Possoco mi ha visto con la moglie l'ex giocatore Possoco il mediamaccio che arrivava alla Bologna e mi venne mi chiamò il Nola andai al colloquio e c'era un certo napolitano mi ricordo era un ingegnere che stava in vacanza e nell'opportunità faceva questo colloquio con me vabbè non ci mettiamo d'accordo allora lui perché io avevo telefonato a Claudio Di Giustino che era il direttore e Claudio mi sa il Nola mi sa andò il Nola non naviga in buone acque stai attento perché insomma giù si allora io dissi va bene gli credetti no? però lui mi disse per il napolitano mi ricordo mai mi disse guarda che un altro anno quest'anno c'è la giunta che deve fare le votazioni e quindi la democrazia cristiana vince e quindi sarà un nuovo presidente un nuovo sindaco quindi ora in attesa di tutto sto quindi abbi fede e abbi fede e io però Claudio mi disse sì e mi stavo sul dubbio allora mi disse tu nel dubbio allora nel dubbio mi disse guarda che se non viene lei mi tocca prendere Simonelli Gianni Simonelli che allenava la nazionale femminile sì sì lo ricordo allora io il filosofo non lo conosco che venne a Giuliano non lo conosco però sarà bravo però mi dia una risposta entro domani io telefonai no vado non vengo e venne Simonelli rifece la giunta la democrazia cristiana e vince il campionato capito? quante opportunità sciupate nell'arco della tua carriera poi i treni passano sì e quindi evidentemente non era destino evidentemente era destino però sai con il procuratore è più facile adesso capito perché ti trovano loro le squadre invece prima tu andavi non avevi batia verso un presidente però comandano oramai i procuratori il calcio non so se questo sia bellissimo sì no no io non sono d'accordo sul fatto che loro devono oggi sono più procuratori che avvocati siamo d'accordo anche vengono nel settore giovanile a 13 anni a prendere i bambini quindi però ecco per gli allenatori è un aiuto maggiore capito perché ti analizza tutta la società ti spiega il presidente che fa che non fa tu da solo vai lì non li conosci ne capisci sempre quella titubanza senti ma il calcio è così tanto cambiato Ercolino Leberazzi infatti a me mi ha sempre criticato questo fatto mi disse io che tu dovevi accettare qualsiasi società infatti io ho trasgredito il consiglio di Leberazzi che è stato un grande presidente per me perché devo riconoscerlo perché mi ha dato fiducia in un anno allenare la Serie C che è praticamente un anno difficilissimo il dopo Romignani che Romignani aveva vinto un campionato quindi ma tu lì non tutti ricordano che alla fine del girone di andata quella squadra in C1 era prima in classifica e purtroppo io non voglio dare colpa a Ercolino perché Ercole per me è stato un grande presidente però sai le finanze erano quelle perché se noi avessimo preso una punta che almeno sopra ai 10 gol noi vincevamo il campionato perché a un certo punto il ritorno tu avevi Carlo Bresciani sì che era bravo però sul grappolo non saltava più sai pensava più a mezzo il rim e la giustesse era un bellissimo un bellissimo uomo però c'era un bel calcio un bel giocatore era stato un po' sul finire della gareta però da noi venne a 35 36 anni con una punta un vertice alto quel periodo volevo silenzio che stavano in fase di lancio ecco un giocatore del genere noi dovevamo cambiare gli schemi perché ormai ci conoscevano ci aspettavano poi il calcio è anche un po' spietato quell'anno non dimentichiamo che c'era Marchioro Barletta allenatore c'era Lippico Siena c'era Zeeman c'era Bern Lucio tu non dimenticare che le telecronache erano le mie quindi me le ricordo tutte tutto e tutte era un calcio difficile fammi dire una cosa invece che non è positiva nel senso che poi nel calcio succede che ci sono i rovesci della medaglia e tu hai vissuto una stagione drammatica nel momento in cui nacque quel teramo raffazzonato che cambiò allenatori in corsa e che si ritrovò in squadra e insomma qualche giocatore che proprio te la tirava contro non voglio neanche fare i nomi ma quell'anno lì fu l'anno poi della retrocessione dopo che avevo rifiutato diverse società mi chiamo Sorgi l'uomo del presidente Costantini che era di Ascoli e mi disse se volevo allenare il termo ma c'erano stati già due sonere io purtroppo uno era Maurizio Bruno Maurizio Bruno e Beniamino Di Giacomo credo precisiamo che Maurizio Bruno aveva fatto 5-4 anni benissimo era amato amato era ed è amato anche oggi però io e poi Beniamino Di Giacomo però quando esonerò Bruno io rimasi un po' interdetto perché avevo dei dubbi ma come mai questo allenatore vero ha fatto tanto bene a terra perché così lo devono togliere e là dovevo non prendere quella squadra invece di Giacomo dopo anche lui ci rimese le penne e poi quando venivo però fu ingannato dal fatto che venne Costantini il presidente di Ascoli e mi voleva fare un biennale a Catania davanti a crescenze dirigenti mi dice firma qua allora gli feci presidenza se retrocediamo che firma fa un biennale la gente mi si mangia insomma allora disse no no ma io faccio cose buone farò grandi cose però io sai sul momento stavo quasi per firmare poi presi tempo e lui fece una festa mi ricordo alla piazza poi di colpo scomparve perché non aveva raggiunto certe sue cose con la società con le banche non mi ricordo che cosa pare che scappò entrando da una banca e uscendo dalla porta secondaria però lui pagò gli stipendi che dovevano pagare la sua la sua senza dubbio io c'è un buon ricordo come persona anch'io nel senso che fra virgolette anch'io qualcosina avrei da raccontare nella mia storia giornalistica Marino Costantini divenne presidente del Teramo dopo un'intervista che io produssi ad Ascoli su un personaggio che si diceva all'epoca era interessato ad acquistare il Teramo Calcio andammo ad Ascoli fu molto gentile e lasciò questa intervista la riportammo a Teramo andò in onda nella mitica quasi gol di Elso Simone Serpentini quell'intervista sconquassò la piazza e Ercole De Berardi si disse bene questo vuole il Teramo eccolo qua che se lo pigli andò così quindi io Marino Costantini l'ho conosciuto bene poi anche il presidente che sbagliò curva a Francavilla quando alla prima partita del suo Teramo invece di andare a salutare i tifosi del Teramo sbagliò e andò era curva ai tifosi a Francavilla un'attività fabbrica d'alluminio mi sembra che faceva infatti a Catania vedeva le scarpe di calcio guardava il tacchetto d'alluminio diceva questi possiamo chi li fa dopo aprire l'ombrella a tutti perché il presidente non ci stava più avevamo sei mesi di mensilizzata a prende i giocatori anche le moglie con le crozelle aspettavano farla fuori lo stipendio e volevano allenarsi da dopo le quattro perché facevano sempre i confronti fra di loro che dobbiamo fare dobbiamo allenare insomma un casino senti abbiamo ancora tre minuti noi siamo partiti era inevitabile che Contesi parlasse anche di altro noi siamo partiti dalla scuola calcio Gaetano Bonoli sanno zero e vorrei tornare chiudendo questa bella chiacchierata proprio con il prossimo cammino no se potevo dire l'organizzazione puoi governartela come vuoi allora l'organizzazione della società è Massimo D'Aprile il presidente io sono vicepresidente consigliere Giacomo Ciutti consigliere Luca Di Domenico marketing comunicazione Federico Carboni segretario Eugenio Tecce legale Massimo Speca medico sociale Dario Galliano poi ci sono anche altri che fanno parte dell'organizzazione leggere Fabrizio Grilli in fondo poi i responsabili del settore Tecce sono io direttore sportivo Luca Di Domenico esordienti Luca Di Domenico e lo stesso pure io poi Pulcini Francesco Iannetti Claudio Belfiore primi calci Angelo Tritella e Stefano Cognata e il consulente tecnico portieri Fabrizio Grilli bene questo è lo staff di partenza noi avremo il piacere anche di seguire le vostre evoluzioni questo è la se si può vedere se si può vedere si che si può vedere devi solamente avere dove vuoi puoi metterlo anche a favore di questa camera si ecco bravo se la tieni buona così e non ti muovi fra qualche istante i nostri telespettatori vedranno anche l'FC Gaetano Bonolis qui c'è il simbolo l'azione 2014 e questo è il logo della Roma Calcio è l'indimenticato Gaetano Bonolis 40 anni al servizio del Teramo Calcio voglio ricordarlo gratuitamente è un grandissimo stavamo seduti in banchina sorrendo io e lui dottore a un certo punto arriva una pallonata sempre con la pipa la pipa arriva a metà campo grande persona grandissimo Gaetano Bonolis con il quale abbiamo aperto e chiuso questa bella chiacchierata con Antonio Luzzi vedremo cosa ci riserverà il prossimo futuro anche a livello professionale Tonino ti ringrazio ancora per essere stato ospite di 45 giri e di Super J un grosso in bocca al lupo a te ma a tutti gli amici e anche alla vostra TV grazie della Gaetano Bonolis ci ritroveremo con 45 giri tornando un po' allo standard che ne ha contrassegnato l'inizio di questo ciclo di trasmissioni domani con un'intervista di natura politica grazie arrivederci grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri